Musica HCS via libera del consiglio comunale all'equidazione della holding grazie ai voti della maggioranza. L'opposizione si divide chi esce dall'aula e chi vota contro. I carabinieri hanno arrestato un palestinese residente a Civitavecchio accusato di aver violentato la sua ex fidanzata. L'uomo deve rispondere anche di stalking e minacce. Entra nel vivo la campagna elettorale a Santa Marinella. Il sindaco Roberto Bacheca revoca gli incarichi al suo vice Eugenio Fratturato e venuto meno il mandato di fiducia. Calcio, il patron del Civitavecchio Enrico Folgo ricomenta la situazione dei nerazzurri e annuncia una multa ai calciatori. Ben trovati dal Tg Alto Lazio. Approdata questa mattina in consiglio comunale la delibera di giunta che dava mandato al sindaco Tidei di liquidare HCS. Se atto necessario come sostenuto dall'ex sindaco Gianni Moscherini che aveva impugnato la delibera davanti al Tardel Lazio. Il quale aveva deciso di sospendere gli effetti dell'udienza pubblica del 19 dicembre del 2013-2012. Ma per i particolari sentiamo Sonia Bertino in collegamento all'aula Pucci del comune di Civitavecchia. Sì, grazie Viviana. Come potete vedere ancora il consiglio comunale in corso. Si è appena finito di discutere di HCS, la delibera che dava mandato al sindaco Pietro Tidei di liquidare la società del comune. Hanno votato per il sì alla liquidazione soltanto i consiglieri di maggioranza, mentre come c'era da aspettarselo dall'opposizione l'ex sindaco Giovanni Moscherini, il consigliere Nunzi e il consigliere Dimitri Vitali hanno votato no. Astenuti invece i consiglieri De Paolis, Zappagosta, Frascarelli, che hanno preferito invece uscire dai banchi della Pucci all'atto della votazione. Perché, come dichiarato da loro precedentemente durante le dichiarazioni di voto, questa è soltanto una presa d'atto, senza la possibilità di discutere qui in consiglio comunale di un eventuale piano industriale per il risanamento della holding. Durante diversi gli interventi che si sono susseguiti questa mattina, come ad esempio quello dell'ex sindaco Giovanni Moscherini, che ha tenuto a precisare come si è arrivati a questa situazione soltanto a causa del blocco del bando di gara per la vendita del 60% della società. Il sindaco Tidei invece ha ribadito che una situazione ingestibile è stata determinata a causa delle troppe assunzioni in seno alla holding e di un servizio che spende tantissimo e che costa al comune mediamente 500 mila euro al mese. Quindi non c'è più tempo per aprire dei tavoli, ma è soltanto il tempo di decidere che cosa fare, seguendo soprattutto due obiettivi, la garanzia del mantenimento dei posti di lavoro e il ripianamento dei debiti. Ringraziamo appunto Sonia Bertino in diretta dall'Aula Pucci e proseguiamo subito. Trattative in regione per HCS lo chiede a gran voce la CGL che ha ricordato la drammatica situazione economica nella quale versano le municipalizzate cittadine e del non scongiurato rischio di un fallimento della holding non concordato che trascinerebbe verso il dissesto economico il comune. Domani pomeriggio, ha spiegato il segretario Cesare Cagliazza alla vigilia della riunione con la Commissione Bilancio del Comune, ragioneremo insieme a tutte le altre OS sulle proposte da sostenere in quel tavolo di confronto sospeso e poi saggiamente riaperto dal primo cittadino. Dopo alcune stimolazioni penso sia possibile il superamento delle attuali società dando vita ad una sola nuova azienda utilizzando una serie di strumenti idonei per superare gli sperperi. Una soluzione che accompagnata l'eventuale nuovo ricorso alla cassa integrazione a percorsi di mobilità per chi è vicino alla pensione e all'utilizzo di altri strumenti contrattuali e di legge potrebbe determinare risparmi di diversi milioni di euro su base annua senza mettere in discussione il governo pubblico dei servizi anche se resterebbe il problema del ripianamento del debito pregresso e di come investire in mezzi e strumenti da ammodernare perché ormai obsoleti. Tema che non si potrebbe risolvere nemmeno con la vendita dei servizi. Occorre spostare la trattativa verso la regione Lasio, ha concluso Cagliazza. Bisogna trovare delle soluzioni politiche che debbano coinvolgere in termini di assunzione di responsabilità le istituzioni, le forze sociali e i grandi attori economici del territorio. I carabinieri hanno arrestato un cittadino palestinese residente in città accusato di violenza sessuale, minacce e stalking nei confronti della sua ex fidanzata di nazionalità romena. Arresto avvenuto al termine di una breve indagine coordinata dal pubblico ministero Alessandro Gentile. Il servizio. Violenza sessuale, minacce e stalking sono le accuse che hanno portato all'arresto di un cittadino palestinese residente a Civitavecchia, Ossan Mohamed Abdallah Ahmed, 35 anni. L'uomo viveva dentro un vagone parcheggiato alla stazione di Civitavecchia dopo che aveva interrotto una relazione con una ragazza romena che poi è diventata la vittima della sua azione violenta. Tutto si verifica dall'inizio del mese di marzo. L'uomo, vistosi rifiutato dalla sua ex, inizia a perseguitarla. Va spesso sotto casa sua, in pieno centro storico cittadino e la minaccia più volte di ucciderla se non torna con lui. Sono i vicini ad accorgersi del trambusto che si verifica per alcuni giorni fino a che si decidono a chiamare i carabinieri. Nasce un'indagine coordinata dal pubblico ministero Alessandro Gentile dopo che la donna viene convinta dai carabinieri a denunciare l'uomo che nel frattempo, in un'occasione, tenta di violentare la sua ex e a quel punto scatta l'arresto. È stato il sindaco Pietro Tidei a conferire al capogruppo del PD Flavio Magliani il compito di seguire i lavori della pulizia straordinaria della Frasca. Da stamane le squadre del Verde sono all'opera, dice Magliani, ma non solo loro. Fin dal primo sopralluogo mi sono reso conto che esisteva un problema di accessibilità della Frasca a causa di grandi buche create dalla pioggia sulle strade di accesso alla pineta. Per questo intervento stradale il Comune si sta avvalendo di imprese che si sono gentilmente rese disponibili. In vista del prossimo paglio marinaro, l'associazione Mare Nostrum, questa mattina alle 11 presso la sede della sezione locale della Lega Navale italiana, si è tenuta la presentazione del progetto Promozione dell'attività polisportiva, quella cioè che i volontari del Mare Nostrum propongono alle scuole secondarie di secondo grado di Civitavecchia e che porta il titolo Il canottaggio contro l'abbandono sportivo precoce. Le interviste realizzate per noi da Romina Mosconi. Sentiamo. Questa mattina qui nella sede della Lega Navale Civitavecchia l'associazione Mare Nostrum presenta a tutta la città e al comprensorio quello che è il progetto del canottaggio nelle scuole in previsione del paglio marinaro del 28 aprile, che è uno degli eventi clou della nostra città e quindi forse è una delle tradizioni che bisognerebbe mantenere perché la nostra città è carente di tradizioni. Allora, siamo con Sandro Calderai che ci racconta di che progetto si tratta. Sì, hai espresso bene la presentazione. Grazie alla felice esperienza lo scorso anno con la partecipazione nel nostro domenico al progetto sull'attività polisportiva promossa da Alconi quest'anno l'associazione ha voluto promuovere in prima persona lo stesso progetto ma denominandolo canottaggio contro l'abbandono precoce dello sport da parte di adolescenti con due obiettivi il primo è quello sportivo, di far conoscere sport poco praticati e conosciuti come quello del canottaggio e sidere fisso e contrastare appunto l'abbandono precoce dell'attività sportiva da parte degli adolescenti ma anche e soprattutto quello storico preparare sempre più adolescenti, ragazzi, alla partecipazione del paglio marinaro manifestazione legata alla cultura, alla storia, alla tradizione della nostra città Allora, proprio parlando di storia non si può prescindere da quello che ci dice lo storico di Civitavecchia Carlo De Paulis che è un luminare in questo settore allora il tuo compito con i giovani qual è? Il compito con i giovani è quello di fargli conoscere le tradizioni, il vivo, la vera essenza quello che c'è nell'intimo delle nostre tradizioni che sono legate al mare legate a Santa Fermina, legate al Ferragosto ce ne sono altre come quella delle tradizioni pasquali ma diciamo rientrano più in quelle religiose nelle tradizioni così che abbracciano tutta la città ecco, indubbiamente la festa di Santa Fermina con il palio marinaro rappresentano, come hai detto, giustamente il clou della nostra vita quotidiana e marinara E cambiamo argomento, modernissimo concerto in occasione della Pasqua Mariangela Vacatello, pianista di fama mondiale, sarà infatti ospite alla Cittadella questo venerdì alle 18 per presentare il suo concerto intitolato Twilight un percorso musicale che con un gioco di luce ed ombre simboleggerà la vita nella rinascita proprio in occasione della Santa Pasqua lo spettacolo è finanziato e prodotto dalla Fondazione Cari Civ il cui presidente Vincenzo Cacciaglia, congiuntamente al sindaco Tidei e a tutta l'amministrazione comunale di Civitavecchia augura buone feste per una serena Pasqua i copone saranno disponibili a partire da domani mattina presso la segreteria della Cittadella Entra nel vivo la campagna elettorale a Santa Marinella il sindaco Roberto Bacheca revoca gli incarichi al suo vice Eugenio Fratturato che ha deciso di candidarsi a sindaco il primo cittadino motiva la decisione è venuto o meno il mandato di fiducia per i raguagli e il nostro servizio fuochi d'artificio nella sede comunale di Via Rucellai a Santa Marinella per la decisione del sindaco Roberto Bacheca di revocare gli incarichi di vice sindaco e di assessore Eugenio Fratturato una querel che si trascinava avanti da alcuni mesi ormai ma che ha raggiunto il suo apice tre giorni fa quando Fratturato in una riunione pubblica ha annunciato di presentare una lista con lui candidato sindaco e nella stessa sise aveva attaccato duramente la giunta Bacheca tacciandola di non aver portato a termine neppure un progetto importante ieri pomeriggio dopo un consiglio comunale che è stato rinviato per la mancanza del numero legale Bacheca attraverso un messo comunale ha inviato a Fratturato l'ordinanza di revoca di tutti gli incarichi preso alla sprovvista l'ex vice sindaco ha protocollato solo mezz'ora dopo l'atto del sindaco le sue dimissioni è naturale che il mandato di fiducia sia venuto meno spiega il presidente del consiglio comunale Giampiero Rossanese Fratturato ha preso le distanze da questa amministrazione nel momento in cui si è candidato come sindaco alle prossime elezioni in competizione con questa stessa giunta evidentemente non si sente più in sintonia con le scelte e l'impostazione stessa della squadra guidata dal sindaco Bacheca da qui la giusta decisione della revoca degli incarichi ovviamente la decisione di Bacheca ha spiazzato il suo ex vice il quale evitando di commentare l'atto del sindaco lascia la risposta nelle mani del coordinamento intercomunale del movimento L'Ancora tanta credine e tanta presunzione di saccenza utilizzata per ironizzare sui comportamenti politici, sui fatti, sugli atti e sulle modalità espressive di altri quando non se ne condividono le scelte è sicuramente sintomo di impotenza politica incapacità di attenta riflessione sugli accadimenti e soprattutto timore di perdere dicono i dirigenti del movimento riferendosi a Bacheca l'opportunità di ritornare ad esercitare il mestiere di amministratore unico posto di lavoro che qualcuno conosce che fratturato dica che vuole cambiare pagina che non intende continuare su una strada intrapresa dal PDL locale nel voler governare per anni senza modificare il modus operandum oppure nell'inseguire ciò che meno interessa alla collettività non può essere considerata eresia né tradimento intanto a tenere viva la macchina elettorale che appoggia il sindaco Roberto Bacheca è Alfredo Esposito, il responsabile della campagna elettorale dell'attuale primo cittadino l'ex consigliere comunale ha inditto una riunione a cui hanno partecipato circa 200 persone dove è stata annunciata la chiusura delle liste pro Bacheca sono sette, commento Esposito di cui è capolista Roberto Bacheca tra queste c'è quella di Lazio Movimento che ha come esponente principale il giovane Emanuele Minghella direttore di due figliali della Barclay Bank e che ha appena 34 anni una persona esperta, fidata e pronta per prendersi la responsabilità di amministrare questa città che io sostengo fortemente all'evento erano presenti anche il presidente del consiglio comunale Giampiero Rossanese il sindaco Roberto Bacheca che hanno chiesto ai loro sostenitori di impegnarsi al massimo perché questa è una tornata elettorale molto importante hanno detto i due amministratori e noi vogliamo arrivare alla data delle elezioni con le carte in regola anche Esposito ha esortato i supporter di centrodestra ad accorrere numerosi ai seggi perché abbiamo grosse possibilità di rivedere Bacheca sulla poltrona di sindaco affermato Esposito guardate cosa succede nel centrodestra sono fortemente spaccati in disaccordo su tutto ed addirittura sembra che Barbazza presenterà quattro liste e sala Flaminia affollata per la convention tenuta invece dalla coalizione di centrosinistra per informare i santamarinellesi sul programma della lista a cui è candidato il sindaco Massimiliano Fronti presenti tutti i leader dei partiti e del liste che compongono questo gruppo tra cui Paola Rocchi della lista Un'altra città è possibile Andrea Bianchi per il PD e Massimiliano Fronti per l'Udc è stato lo stesso candidato sindaco a tenere la relazione introduttiva dove ha spiegato il motivo per cui è nata la coalizione e quali sono i suoi obiettivi in caso di successo alle amministrative di maggio il nostro motto ha detto Fronti alla platea è prove libere di coalizione aperte le porte alla città significa che noi abbiamo costruito una coalizione formata da diverse realtà sociali e da partiti che hanno fatto opposizione alla giunta Bacheca 5 anni dove abbiamo imparato a valutare le delibere, gli atti amministrativi e le malefatte di questa amministrazione che abbiamo poi combattuto presentando interrogazioni, mozioni, denunce e ricorsi al TAR da questa esperienza abbiamo messo su un codice etico e un programma elettorale formato da 15 atti fondamentali tra cui gli accessi al mare il rapporto tra il cittadino e la CEA le manifestazioni estive trasparenti il nuovo piano regolatore la realizzazione del parco dello sciatalone i piani integrati il prestito agevolato la raccolta differenziata ed altri e passiamo a Montalto polemiche sul processo relativo allo sopro di gruppo tenuto sia Montalto di Castro che nei giorni scorsi ha visto un nuovo stop dopo la decisione del giudice del Tribunale dei minorenni di Roma di concedere il beneficio della messa in prova agli otto imputati accusati di aver violentato nel 2007 una quindicenne di Tarquini all'epoca dei fatti loro coetanea a prendere la parola e la mamma della ragazza che certamente sperava in un epilogo diverso tutti otto gli imputati affronteranno un percorso di reinserimento sociale da stabilire a luglio niente carcere nessuna condanna dice la signora Agata non capisco danno ragione a mia figlia dicono che è attendibile che lo sopro c'è stato quindi che fanno li mettono in prova per recuperarli e a mia figlia chi la recupera chi la risarcisce ha dei sei anni di sofferenze e umiliazioni la ragazza ha preso la notizia per telefono dalla madre prima ha pianto di gioia poi di rabbia è felice di sapere che i giudici le hanno creduto ma resta il fatto che queste persone non pagheranno per il male che hanno fatto Piazza Giacomo Puccini tornerà Isola Pedonale dopo Pasqua l'apertura al traffico è stato un provvedimento temporaneo preso in mancanza in concomitanza con i lavori di restauro dell'arco di Via Porta Tarquinia lo dichiara il sindaco di Tarquinia Mauro Mazzola in risposta alle affermazioni rilasciate in stampa dai commercianti del centro storico non ho mai promesso di lasciare aperta Piazza Giacomo Matteotti prosegue ho sempre detto che dopo le festività Pasquale sarebbe ritornata a area pedonale oltre si è affermato che insieme ai commercianti siamo pronti a lavorare per rendere più vivace il centro storico con iniziative eventi e manifestazioni la stagione turistica è alle porte fare marcia indietro non è possibile sarebbe controproducente il provvedimento è adeguato alla realtà cittadina ed è una misura per contrastare il parcheggio cosiddetto selvaggio come è accaduto in queste settimane il venerdì e il sabato sera nonostante il divieto di sosta tanto che alcuni commercianti hanno auspicato l'intervento del vicino comando di polizia è importante capire che le aree pedonali sono uno strumento a favore non contro il commercio e per garantire una migliore vivibilità FL3 braccio di ferro con i vertici di treni Italia nel corso dell'incontro di ieri in via Marsala il sindaco di Bracciano Giuliano Sala ha detto ci vuole un equilibrio tra quelle che sono le esigenze dei passeggeri di Viterbo e di Roma rispetto a quelle del lago di Bracciano vanno cercate soluzioni condivise e soprattutto che vedano la partecipazione dei pendolari e delle istituzioni locali senza creare questioni di carattere sociale per studenti e lavoratori penalizzati dalla soppressione delle fermate nelle ore di punta del mattino sulle corse Viterbo-Roma e cambiamo decisamente argomento voltiamo pagina e passiamo allo sport calcio all'indomani della pesante sconfitta patita in serie D contro l'ossi amare per 3-0 parla il patron del Civita Vecchia calcio Enrico Folgori purtroppo la partita è girata negativamente intorno ad un episodio cioè il rigole relativa all'espulsione di Boccolini ma la squadra ha giocato bene il nostro difetto è che subiamo troppi cartellini dobbiamo essere più calmi il patron parla anche della situazione economica i giocatori riceveranno il rimborso di febbraio dopo Pasqua ma sia chiaro che chi non si è allenato martedì sarà multato come loro giustamente pretendono di vedere rispettati i loro diritti noi pretendiamo da loro determinati doveri il Civita Vecchia Calcio tornerà in campo domani alle 14.30 al fattori contro la Sarnese e passiamo all'occhi anche gli snipers under 20 come gli snipers di serie B non fanno altro che vincere domenica pomeriggio in quel di Ariccia i Civita Vecchia si hanno infatti battuto con un netto 6 a 0 i pari età del Velletri pallavolo una grande vittoria per la pallavolo Cerveter nel big match del torneo di l'Etrusche superano per 3 a 1 la Millennium con la quale condividevano il primato da oggi conquistato in solitudine dalle Biancoverdi ma questa era l'ultima informazione per l'edizione del Tg Alto Lazio vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione e vi ringrazio per la cortesa attenzione arrivederci a tutti con la nostra—— che